Eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento e qua sono a Santa Lucia, il nuovo centro di riabilitazione, qui a Roma, dove rimarrò per un bel po'. E niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato la mano non solo fisica ma anche proprio morale, non do poco e tutta la squadra della federazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore e niente, adesso io sono qua, non vedo l'ora di dar tutto, tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile perché veramente qua ci vuole rimanere poco e niente, poi ci aggiorniamo sui social, grazie di tutto il supporto che mi state dando io anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto, tutto, tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date e niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, a presto e niente, adesso si inizia l'allenamento.